La storia del mining sta un tantino sfuggendo di mano, in questi giorni. Siamo arrivati a minare anche su Game Boy? Eh sì, c'è qualcuno che ha provato a minare sulla console Nintendo dell'89. Sì, spoiler, non conviene. Ebbene sì, a più di 30 anni dall'uscita sul mercato della famosissima console Nintendo, c'è ancora qualcuno che pensa sviluppare cose, in particolare non si tratta di giochi, per questo piccolo aggeggino che sta un po' nel cuore di tutti noi appassionati. Come visto appunto dai colleghi di Videocarts, condiviso nelle ultime ore dai colleghi di Videocarts, il modder Stack Smashing ha deciso di verificare se questa piccola macchina portatile fosse o meno in grado di minare Bitcoin, tra l'altro. Il modder ha usato una scheda Raspberry Pi Pico, che funge da connettore tra PC e Game Boy. Questa ormai antica console portatile manca ovviamente di qualsiasi tipo di supporto per il protocollo rete wireless, quindi è necessario collegarla attraverso il vecchio connettore seriale SPI. Quindi il PC letteralmente invia le informazioni per il mining alla console e la console si occupa di eseguirle. Con i suoi tempi, con calma, tanto c'hai fretta. Ovviamente non è che ci si possa aspettare queste prestazioni da un Game Boy, soprattutto in questo ambito. Fate conto che sul Game Boy, sulla vecchia macchina Nintendo, è montato un processore Sharp, modello LR35902, che raggiunge frequenze di udite udite 4,19 MHz. E come ricorda anche il modder, all'interno appunto delle sue spiegazioni, del suo video, che state vedendo anche in sovraimpressione, questo significa che il Game Boy in sé è circa... non ho idea di come si legano 12 zeri, però credo che sia 125 mila miliardi di volte meno potente delle macchine ASIC che si utilizzano ad oggi per minare Bitcoin. 125 mila miliardi. Sì, però è sempre divertente come esperimento. E proprio di esperimenti si parla, perché di fatto il modder ha realizzato appunto un blocco personalizzato facile da estrarre, solo ed unicamente per verificare se la macchina, la console Nintendo, fosse o meno in grado di effettuare questa procedura. E l'esperimento è stato un successo, perché il Game Boy di fatto riesce a minare. Questo ovviamente è un'informazione, una notizia, fine a se stessa chiaramente, perché oltre al fatto di non convenire, non ci si può aspettare niente da potenze di questo tipo, soprattutto per una console portatile alimentata ancora a batterie AA. Però è carino il concetto e capire quanto possa essere versatile la blockchain in tal senso, soprattutto se pensiamo che è una macchina veramente di 30 anni fa, che ci si riesca a fare un lavoro del genere, tramite adattatori eccetera eccetera, perché ovviamente va collegata al PC, perché non ci sono tipi di connessioni valide all'epoca, non c'erano tipi di connessioni valide in tal senso, quindi bisogna ricrearla. Però è interessantissimo vedere appunto quanto è versatile la blockchain in questo senso pratico. Ovviamente questo è solo uno dei tantissimi esperimenti che si stanno facendo negli ultimi mesi, ma in generale da quando sono usciti, sono andati alla ribalta queste criptovalute, bitcoin in primis chiaramente. Fatemi quindi sapere se avete recuperato negli anni, nei mesi, qualche altra notizia di questo tipo, se qualcuno ha provato a minare su qualche vecchio sistema, ad esempio su qualche vecchia console, e ci è scappato per qualche motivo, e tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Io vi do appuntamento come al solito nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao! Ciao!